Videoripresa in 4k 60 fps con pixel 6a mattino qua stanno dormendo ancora tutti tranne uno devo dire davvero un bel terminale leggermente più compatto del 6 buone prestazioni fotocamera sembra di buon livello questo è un tappo cosa c'entra qua ok rientriamo facciamo poco rumore che i bambini dormono sono più grandi di me però vabbè ok cambio di luce devo dire che promette bene ciao